Eccomi qua! Allora, sono con Gocca Andrea dell'ARC Service, seconda giornata di campionato, come vedi questa stagione di Serie B? Speriamo bene, che va di tutto bene, la squadra è nuova, era un paio d'anni che non giocavamo più assieme e ora si sta riprovando tutti insieme a rifare questo campionato e vedi come va a fare. Avete deciso di riunirvi? Come mai un periodo di stop? Problemi nella vita reale, tutto un po'. Ok, senti, e gli obiettivi? Quello che speri, insomma, i risultati della squadra? Presto, è presto, si è iniziato l'ora, è presto. Lo so, però dai, vammelo. Lo so, l'ottimismo ci vuole, però no. Ecco, no, non mi chiedo, scaramanzia? Sì, sì, per scaramanzia. Punto di forza e punto debole della squadra? Punto di forza siamo tutti ieri. Non lo so, siamo tutti bravi. Diciamo il gruppo, diciamo che ci stagione una bella squadra. Siamo tutti amici, siamo uniti, ci si aiutano l'un con l'altro. Ok, senti, nuovi innessi rispetto alla squadra originaria? No, no. No, siamo sempre i soliti. I soliti. I soliti. Come, raccontami un po', com'è nata questa squadra? Allora, è nata circa sette anni fa. Sera tutti amici, si è deciso di incominciare a giocarecetto insieme. Si è giocato per sei anni insieme, andando a fare giornali, a fare rappresentative per l'MSP. Quindi, insomma, degli ottimi traguardi? Sì, sì, si è fatto delle belle cose, tutti insieme. Poi, due anni fa, o per motivi familiari, o per uno lavoro, o per altre cose, ci siamo divisi. E quest'anno si è rideciso di riunirci tutti insieme, si è ricontattato vecchi amici, perché mi sembrava giusto ricontattare tutti i vecchi amici, e si è rifatto la squadra. E da chi è partito questo input per ricostruire la squadra? Da me, dal mio amico. Chi è tuo amico? Claudio. Ok. Perché lui, vabbè, ci si vede sempre, il sabato e il domenico siamo sempre insieme. E quindi da voi riparte a questa volontà? Sì, no, mi è rimasta nel cuore giù a colloco, cioè, con i miei amici. Perché è stata una bella esperienza. Sì, no, poi ci si trova bene insieme, si usa, si scherza, si perde insieme, si vince insieme. Ok, la partita più emozionante della squadra, quella che ricordi con più emozione. E' quando siamo andati in Serie A. E contro chi giocavate? Non me lo ricordo. Oddio, però, insomma, è stata la partita della promozione che... No, è stata la cosa più bella. Siamo partiti dalla Serie E, anno per anno siamo riusciti a scalare fino ad arrivare a fare la Serie A. Cioè, penso che per qualsiasi squadra un traguardo del genere è motivo d'orgoglio. Sì, quello senza dubbio, è un bellissimo traguardo. Senti, se tu dovessi fare un pronostico, non so se conosci le squadre che stanno facendo il vostro campionato, Ce ne sono alcune che pensi... Quella che ci stiamo giocando contro è una bella squadra, sono bravissime. Un universo giochi. Sanno giocare, sono bravissime. Ha qualche altro nome che magari secondo te può arrivare nelle prime posizioni, se ti viene in mente qualcosa? La RC Service. Perfetto. Siamo noi. In bocca al lupo. Grazie.